Ciao a tutti, popolo del tubo, bentornati qui sulla serie tedesca, sulla Obsderf Abastro... Aspettate, mo' ve lo dico... Qua sulla EBSDORF RIDE V2, solo per PC. Allora, amichetti, come state? Noi ci ritroviamo esattamente qui dove ci eravamo lasciati nello scorso gameplay, perché poi non l'ho portata più in live dall'ultimo gameplay ad oggi, non l'ho più portata in live questa serie, perciò sto dando di nuovo la calce ai campi. Ma io ho sentito una vocetta che diceva Robby, in live dove? E ve lo dico subito, vi ricordo che in descrizione c'è l'altro mio canale, dove sono in live tutte le mattine alle 11 e tutte le sere alle 20 e 30. E se avete Amazon Prime, potete venire a sostenermi gratuitamente con un abbonamento, grazie a tutti gli amici che credono nel mio lavoro, che soprattutto non cambia un'idea, perché ho incontrato persone nella mia vita sul canale che prima grande grande, e poi all'improvviso diventano haters, cioè la gente non sta bene, diciamolo. Ma io mi rivolgo invece a tutti gli amici che mi aiutano e mi sostengono sempre e da sempre, grazie veramente, perché siete la vita di questo canalocchio. Poi vi ricordo pure che sono aperte i preordini, i preordini Farming Simulator 22, ormai ci siamo, quanto mancheranno? 37-36 giorni? Ci siamo, e poi durante questo video andremo a parlare di farming, perché c'è tanto da dire. E quindi, e quindi, e quindi, se invece di preordinarlo da altre parti, lo preordinate dai miei link e affiliazione Giants Partner, potete aiutare il canalocchio a scalare le vette appunto della suddetta partner. Ma c'è anche le bande, cominciamo un po' a parlare. Allora, innanzitutto, vabbè, in gioco sto dando la calce e quello lo vedete, insomma. Ma parliamo un po' del fact sheets di ieri. Se ve lo siete perso, ve lo lascio qua nella i, nel box informativo, così potete andare a spulcicchicchiare un pochettino il tutto. Ieri è stata la giornata della Grimm. Qualcuno un po' si è fatto prendere all'ansia e dice non vediamo più la Olmer, ma mi sembra strano. Io credo che magari più in là verrà presentata anche la Olmer. Ieri è stata semplicemente la giornata della Grimm. Abbiamo visto un botto di roba nuova della Grimm. Abbiamo visto una trainata, abbiamo visto una nuova semovente per le patate, una per le barbabietole. Insomma, tanta tanta roba. Se poi tra l'altro sul sito pare, e dico sempre pare, che la Grimm sia al completo, perché non c'è Cominxun. Forse quello del Fend è stato un errore, no del Fend, scusate, della Deutz. Perché vi ricordate che anche Deutz Far era non più in Cominxun e poi è tornata in Cominxun. Allora noi abbiamo detto, eh, allora, allora ci fanno lo scherzone. Probabilmente quello invece è stato un errore. Cioè hanno messo sul sito la Deutz come non in Cominxun, invece era in Cominxun. ma penso che sia un errore, perché poi nessuno degli altri marchi, degli altri brand che attualmente non è in Cominxun, è tornato in Cominxun. Non so se mi so spiegato quello che voglio dire. Indy, Indy per cui, che piace tanto al mio amico DeBaffo, Indy per cui. Indy per cui penso proprio che la Grimm sia finita, sia completa. Cioè ci sono i nastri, ci sono le seminatrici, quelle da 6 e quella da 8. Qualcuno si aspettava anche il DLC di Peppe, ma il DLC di Peppe è un DLC di terze parti. È un po' come lo Strove Harvest, non potrà mai uscire nel gioco di default. Questa ovviamente è una mia supposizione, è una mia piccola suppostina. Però credo che le cose di terze parti non possano finire come roba Giants di default del nuovo farming. Comunque, roba della Grimm, abbiamo visto anche nuove texture per quanto riguarda le patate, le barbabietole, la roba raccolta, insomma gli scarti che rimangono sul campo, i residui culturali. E abbiamo visto anche qualche nuovo mezzo sul sito che però andremo a spulciare domani con il Mod News. Almeno, voglio dire, abbiamo qualcosa di cui parlare anche nel Mod News perché le mod, amici, sono belle che decesse, come si suol dire. Avete visto? Ormai il modding esce poco e nulla. Ah, ok, poi abbiamo visto il New Holland, il New Holland è quello con i cingoli, i cingoli rigorosamente in 3D. A me piace di più gommato, ma a me i trattori piacciono sempre di più gommati. Non c'è proprio, secondo me, non c'è proprio paragone. Ma uh, mamma mia, ho saltato come se stavo sulle montagne russe. Ma quelli sono gusti, ovviamente, non c'è proprio paragone, secondo me. Per carità, i gusti sono gusti e vanno sempre rispettati. Però, insomma, bello, bello rivedere anche il nostro fantastico T9. Poi tra i mezzi abbiamo visto anche il nuovo Fend. Il Fend, come si chiama? 1100 BT, una roba del genere. Adesso sapete che io per i nomi ci potrei giocare anche 20.000 milioni di anni a farming, ma ricordarsi i nomi è sempre per me una cosa molto disdicevole. E comunque è uno spettacolo, uno spettacolo, raga, è uno spettacolo veramente sto farming e tanta roba. Allora, dobbiamo decidere che cosa seminare qua. Venite con me, amici miei. Qui bisogna stare un attimino in attenzione. Allora, noi abbiamo le vacche. maese silage, vabbè, non ci serve perché le alimentiamo con il grass silage. Ci abbiamo dei campi d'erba, sarebbe inutile andare a fare il maese silage. Pieno abbiamo dei campi d'erba, quindi lo facciamo benissimo. Clover silage, abbiamo un campo di clover, di trifogli, che so, i trifogli, i quadrifogli, se fa quella roba lì. Ce l'abbiamo. E erba, fresce mais, eccetera, eccetera. Ci abbiamo l'erba, ci abbiamo la clover, quindi non ci serve assolutamente una beata cipetta. Poi, per quanto riguarda i cavalli, invece, credo proprio che ci manchi l'avena, perché l'avena, l'orse silage, ci mancano carote e avena. Quindi io andrei a seminare queste due cose qua. Vediamo se abbiamo l'avena. Zero litri d'avena e credo zero carote. Perciò, adesso seminiamo avena e prossima volta seminiamo carote, così ci facciamo una bella scorta per i nostri cavallotti o cavallotti, cavallotti storni. Ecco, a posto. Perciò seminiamo la venetta per i cavalletti. Oh, perfetto. E metto, ovviamente, l'operaio con crossplay, perché io non ho la più pallida voglia di mettere a seminare. Allora, mettiti qua, bello de casetta, mettete qua, bello de caserta. Allora, allora, credo che questa serie la porterò in live domani mattina, domani mattina, domenica, domani mattina quando esce il video, domenica alle 11, eh. Quindi se volete vederla in live, vi aspetto. Allora, il campo 10, giusto? Campo 10, gli facciamo fare una sola svolta, una sola testata e gli facciamo seminare la venetta. Gli diciamo da partì, gli facciamo, lo facciamo partì dal primo punto, avvia percorso, a posto, a posto. Nel frattempo, invece, Robimello vostro, Gagliard e Tosto, va a fare altro. Innanzitutto, è arrivato anche, direi, il momento di fare un altro trattorotto. non sarebbe male fare un altro trattorotto, ma vorrei anche fare il biogas, iniziare un po' a biogassare. Per quale motivo? Perché io c'ho i liquami, come vedete, c'ho i liquami e c'ho concime che attualmente non uso. I liquami sono solo 2000 litri adesso, non mi bastano per il campo, perché qualcuno potrebbe dire, Robi, perché non hai liquamato? Perché come vedete c'ho solo 2000 litri. Che ce faccio? What's, what's, what's I fair? What's I fair? Che ce faccio? dobbiamo allora vendere il latte innanzitutto e trovare una sistemazione per il concime. Io per quanto, intanto vendiamo il latte, vendiamo il latte. Ah, ah ok, dice che quello che deve venire a ritirare il latte è rotto e quindi non se può, va bene, però abbiamo un botto di concime, lo vendiamo domani il latte ovviamente, il giorno dei giochi domani, abbiamo un botto di concime, io quasi quasi metterei qualche biogas di quelli posizionabili, però a me sa che non ce l'ho il biogas posizionabile, lo devo, lo devo, lo devo scaricare, lo devo scaricare il biogas posizionabile, perché quello della mappa, vediamo dove è quello della mappa, perché così lo manda a cacca, capito? Dov'è il biogas della mappa? I don't see, I don't see, I don't see, oh sì, oh sì, I don't see, questo che è? Gull e Glaf, ma qua si vende la cacca? Qua si vende la cacca? Da sto posto? No, non si vende la cacca da sto posto, forse si compra, vediamo qua se posso vendere la cacca, vediamo se posso vendere la cacca, su, io non vedo il biogas della mappa, eccolo, campo 39, quanto costa? No, vabbè, 369 mila euro, no, no, sapete che faccio? Adesso vado a mettere quelli di Castor e metto quelli, a fra porco, e allora amici, nel frattempo l'operaio ha seminato entrambi i campi e io ho messo un piccolo biogas posizionabile di Castor, ve lo lascio ovviamente in descrizione, però vi consiglio anche di andare a vedere proprio la pagina del modab di Castor perché ce n'ha tantissimi di biogas, io ho preso il più piccolino che si chiama Container VGA da 45 kilowatt ma ce n'ha da 100, ce l'ha di qualsiasi potenza e grandezza voi vogliate, a me me ne serve uno piccolino che lo vorrei mettere in farm e lo mando un po' all'etame, un po' all'iquame, insomma, più che altro a reflui animali, poi se mi avanza tempo ci faccio anche un po' di insilato magari, però ecco, più che altro mi serve a reflui animali, dove lo troviamo? Dove lo troviamo? Lo dovremmo trovare in varie, credo, eccolo qua, Container VGA Basic System 259 mila euro è un VGA compatto da 45 kilowatt, l'ideale per un piccolo business, vedete, usa il tuo silato o i residui animali, nel mio caso userò l'insilato, perché voglio fare anche questa operazione, perché comunque nel 22 ci saranno i biogassi di default, quindi queste sono cose che andremo a fare nel 22 e a me piace anticipare un po' tutto, questa è un'estensione, è un'estensione del BGA, quindi se non ci bastano i litri qua, mettiamo un container di fianco, è un po' come l'estensione dei silos e ci dà cose maggiori, però ci vorranno 250 mila euro, noi ci abbiamo già 570 mila euro di prestito, ne chiediamo altri e chi se ne frega, chi se è visto, se è visto, stiamo a andare rovinati raga, io ve lo dico, stiamo a andare rovinati, vediamo un po' se riesco a trovare un posto dove mette sto BGA, ma devo dire che è veramente piccolo raga, non ci dovrebbero essere molti problemi per il BGA, addirittura io pensavo dai cavalli, là dai cavalli, dove abbiamo i cavalletti, i cavalletti storni, cavalletti, cavalletti storni, me fate mettere il BGA, vediamo un po', vediamo un po', ma dai, qui alla fine va bene, oh, che dite, ce può stacchi il BGA, eh, guardate, piccoletto, eh, bellino, bellino, perfetto, andiamo un attimino a, eh, ovviamente, dobbiamo asfaltare un po', che famo, nasfaltamo, che famo, nasf, hashtag, nasfaltamo, ecco, mattonellamo, no, non mi piace mattonelle, voglio l'asfalto, o addirittura il cementino, ecco, così, a posto, cementamo tutto, tutto cementizio, qua, oh, il momento era a provizio, e Robimel ha messo il cementizio, a posto, a posto, stiamo a bordo, bordo campone, oh, perfetto, ehm, qui però, sì, vabbè, entriamo da qua, e, e facciamo il biogas qua, perfetto, qua, andiamo a scolpire un po', in modo che la strada, ok, vada giù, qui mettiamo, non c'erano i cespuglioni? Mi sbaglio, non c'erano dei cespuglioni qua da disegnare? No, vero, non è questa la mappa con i cespugliotti? Sì, eccoli, guardate, un po' di cespugliotti qua, dove stanno, l'alberetti, oh, io credo che così va bene per scaricare, no? credo che vada più che bene, guardate, questo è il digestore, questo è il digestore, il nostro piccolo digestore, va bene, dai, non so che cacchio di digestore è quello, però va bene, va bene, va bene, dai, poi, qui mettiamo un po' di fanghino, perché sapete che il fanghino, ci sta sempre bene sulle, sulle mappe, ok, il fanghino, mettiamo un po' di fanghino così, qui è proprio dove si scarica il digestore, a posto, fanghino come se non ci fosse un domani, che cosa ci può stare, che cosa ci può stare qua, per, per decorazia o meraviglia o, beh, una decorazia o ci potrebbe stare innanzitutto, questa da mettere sul campo, cioè per dividere il campo, che dite, dividiamo il campone, eh, dividiamo il campone qua, così, io so sicuro che, me ne pentirò da aver messo queste cose, me lo sento che me ne pentirò, perché voi direte, perché Robby te ne pentirà, e me ne pentirò perché, quando andrò a fare le manovre, me lo sento, me lo staccato, sento, ok, così, così, e la chiudiamo così, io me lo ho staccato, sento, me lo ho staccato, sento che me ne pentirò, ah ok, perfetto, perfetto, ci mettiamo pure qualche piantona, ce la mettiamo qualche piantona, raga, per coprire un po' qualche magagnetta, eh, qualche magagnetta, qua e là, che dite, tipo una piantina qua, una piantina qua, per coprire un pochetto, capito, copriamo qualche magagnetta, ok, e ci mettiamo, ovviamente, i nostri, cespuglioni, che non mi ricordo più quali erano, eccolo, cespuglione, 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 ah è uscito, ok, cespuglione, cespuglione, a posto, per coprire qualche magagnetta, i cespuglioni so, l'ideali, dai, è venuto bene, dai, tutto sommario, raga, tutto sommario è venuto bene, vediamo qualche altra decorazione, che si può mettere al nostro biogas, non credo, la legna, il biogas, non credo che serva molto, ad esempio, un ufficetto, un ufficetto, ci potrebbe stare, il biogas, ah, è più grosso l'ufficio, che il biogas, ufficetto, un paio di ciupoli, ufficetto, un paio di ciupoli, small office, un ufficio piccoletto, qui, lo mettiamo un ufficio al biogas, no, perché se no, entra l'ufficio, uscimo noi, che amarezza, non c'è va niente, raga, niente, nemmeno le macchine, dei dipendenti, dai, le macchine di dipendenti, sì, però, dai, eccola, la macchina del dipendente, no, ha buttato giù tutto, guardate, ha storto tutto, la macchina del dipendente, guardate, ha storto tutto, ma porca miserietta, ha storto tutto, la macchina del dipendente, ok, a posto, dai, però, tutto sommato, tutto sommato, è carino, dai, tutto sommato, è carino, è carino, abbiamo fatto un buon, un buon BGA, un buon BGA, piccolo, compatto, a reflui animali, vediamo un attimo occhio, vediamo un attimo occhio, tararararata, vediamo un attimo occhio, nanananana, vediamo un attimo occhio, nanananana, basta, 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 adesso, prendiamo il camion, e lo carichiamo, con sti reflui, animali, cioè la cacca, non i reflui, la cacca, la carichiamo con la cacca, così la cacca delle vacchette, c'è utile a qualcosa, là c'abbiamo la kamer, la kramer, la cremeria, insomma, in italiano, c'abbiamo la cremeria, ok, qui metto tutto così, e andiamo a caricare, andiamo a caricare, andiamo a caricare, oh, piano piano, eh, con la paletta da mille, eh, quanto ci metteremo, quanto ci metteremo, raga, quanto ci metteremo, ci metterà tantissimo, Remo, ma io credo, oh, meno male che si allunga, se no questa nemmeno c'annava, oh, tiè, tiè, ma se io cambio palla, ce ne metto una più grossa, ce vanno quelle della CSZ, io credo qua, andiamo un po' un attimino, se, se ce vanno quelle della CSZ, perché alla fine, ah, beh, non me la, me la fa stacca, sì, me la fa stacca, però dopo non me la fa vende, perché non è roba mia, quindi tutto un cavolon, tutto un cavolo, perché questa teoricamente, non figura mia, sta cacchio di kramer, figura non so di chi, quindi tutto ciò, è disdicevole, vabbè raga, eh, quanti litri so di cacca, quanti litri so, scusate eh, sono, sono, 19.000 litri, le concime, mamma mia, ci metteremo un bel po', a fra porco, ed ecco mi amici, che con il mio carico di cacca, sto andando al biogas, a scaricare per la prima volta, il nostro primo scarico, al nostro biogas, posizionabile, artigianale, ergonomico, economico, empirico, eh, satisferico, eh, mega galattico, sto facendo la strada, eh, sto facendo la strada, non sto tagliando per i campi, così anche i puristi di farming, non potranno andare in gira, di ma come gioca quello, ma quello gioca male, ma quello gioca male, non so come gioca, eh, andiamo, andiamo, mettiamo la freccetta, direi, pure la freccetta vi metto, puristi di farming, pure la freccetta vi metto, amici puri, amici puri, guardate qua, guardate qua, quanto è carino il nostro biogas, è dove manco ci si gira, bellino, 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 adesso dovrei riuscire a scaricare, here, in this place, però, aspetta, ma che devo aprirla, sta cosa? Sì, la devo aprire, mamma mia, che spettacolo, e poi, mi fa scaricare, una volta aperto? Sì, 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 faccio manovra, mi fa scaricare dentro qui, certo che è un digestore strano, eh, è un digestore strano, è molto strano come digestore, lo butto tutto dentro, oh, a posto, a posto, che spettacolo, il nostro primo carico, al nostro nuovo BGA, fatemi sapere nei commenti, se vi piace questa puntatina, se vi piace l'idea del BGA posizionabile, anche perché è una cosa che troveremo, ripeto, su Farming Simulator 22 di default, commentate, lasciate un bel like, iscrivetevi, e attivate la campanellina, per rimanere sempre aggiornati sul mondo di simulatore e di Farming Simulator, io amici vi saluto, non prima di ringraziare gli abbonati, che sono anima, vita, cuore del canale, che consentono a questo canale di sostenersi, e di andare avanti, grazie di cuore, amici abbonati, io vi saluto, buon sabato, e ci vediamo al prossimo video, ciao! Ciao! Grazie a tutti